Lei ha saputo, alla fine il Ministro ha detto che Salvini la manifestazione la poteva fare? Il Ministro ieri ha fatto un comunicato, qualche minuto fa il Prefetto ha notificato alla mostra l'ordinanza. Io vorrei che si chiarisse una volta per tutte che l'amministrazione non ha mai detto che Salvini non potesse fare la manifestazione. Noi dal primo momento abbiamo detto che siccome Matteo Salvini impronta la sua politica e la sua propaganda in maniera profondamente razzista, xenofoba e antimeridionale, qualsiasi luogo che anche indirettamente dovesse comportare la potestà di autorizzazione da parte dell'amministrazione noi non avremmo dato nessuna autorizzazione. Nel primo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica Prefetto e Questore ci fecero capire che la mostra d'oltremare era il luogo da loro ritenuto più idoneo per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e quindi hanno imposto la mostra d'oltremare. Successivamente ci sono stati dei fatti nuovi. Salvini ha continuato a provocare reiteratamente dal punto di vista politico ed è accaduto che alcuni cittadini della nostra città, alcuni abitanti della nostra città entrando alla mostra d'oltremare si sono inseriti nel luogo dove Salvini avrebbe dovuto tenere la manifestazione e hanno espresso un forte dissenso e radicale dissenso rispetto a quella manifestazione. E questo lo trova normale? E' legittimo, assolutamente sì, dissenso, disseniamo tutti i confronti da Salvini poi ognuno ha le sue modalità per dissenire ma il dissenso ci accomuna. Di fronte a quello la mostra ha fatto una cosa molto importante ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni tecniche per fare la manifestazione per Salvini perché ormai quel tipo di situazione aveva creato il blocco della mostra d'oltremare la gente non poteva più accedere, non era più diventato un parco accessibile a tutti la manifestazione dei droni non si poteva più fare e ieri in sede di riunione di prefettura ha indicato il fatto che da punto di vista tecnico non c'erano più le condizioni e l'ha comunicato con la formula della revoca della disponibilità a noi per Salvini, insomma agli organizzatori. A seguito di questo è intervenuta quindi la nostra conferma che la mostra non era il luogo più dono, anzi che il luogo della mostra non era il luogo migliore per garantire alle condizioni delle ultime ore quel tipo di manifestazione e che la città non ha solo la mostra d'oltremare è intervenuto il ministro con una dichiarazione ferma ma anche generica nel senso che lui ha detto si deve garantire a Salvini di fare la manifestazione punto, è che ha detto si deve garantire a Salvini di fare la manifestazione d'oltremare quindi noi abbiamo continuato a esprimere il dissenso stamattina con un atto che francamente reputo senza precedenti e questo diciamo abbiamo avuto modo ovviamente di dirlo non solo adesso alla stampa ma anche ai vertici del Viminale viene ordinata alla mostra d'oltremare da parte del governo della Repubblica Italiana di mettere a disposizione per Salvini la mostra d'oltremare quindi in questo momento, mentre io vi parlo, si sta facendo un verbale e noi consegneremo le chiavi a chi è stato delegato da parte del ministro dell'interno del prefetto, cioè la questura di Napoli daremo le chiavi della mostra d'oltremare perché noi a questo punto non disponiamo più della mostra d'oltremare quello che è stato fatto sono un po' i provvedimenti che sono stati utilizzati nell'epoca dell'emergenza rifiuti per le discariche siccome non voglio ritenere che la mostra d'oltremare sia una discarica che non lo è, il che non posso ritenere che se Salvini sia considerato un rifiuto proveniente dal nord ritengo che questo tipo di provvedimento è un provvedimento che noi chiaramente dal punto di vista politico istituzionale respingiamo perché ci stava la possibilità di contemperare tutte le esigenze uno di non fare martire Salvini che quindi Salvini pur ritenendo assolutamente da respingere tutta la sua politica razzista e xenofoba lo Stato italiano gli deve garantire di fare la manifestazione ha detto il Ministro Napoli come sapete è grande anche vicino alla mostra d'oltremare c'erano possibilità alternative evidentemente si è ritenuto di far prevalere il capriccio di Salvini di fare la manifestazione alla mostra d'oltremare e per potergliela consentire addirittura è dovuto scendere in campo il Ministro dell'Interno questo in modo sintetico è la storia Ma non le sembra grave che per garantire il diritto alla parola a un leader di partito debba intervenire il Ministro degli Interni con l'occupazione di sale con una manifestazione che a prescindere dalla volontà di chi l'ha convocata potrebbe anche sfociare in disordine Credo però non faccio finta di non capire perché nessuno ha tolto il diritto di paraola a Matteo Salvini Matteo Salvini che fa apologia del fascismo in alcune sue dichiarazioni noi non possiamo consentire che un'articolazione del Comune di Napoli sia data nella disponibilità di Salvini ci sono tanti luoghi della nostra città ci sono le piazze, ci sono le strade, ci sono le strutture private vicino ce ne sono altre alla mostra d'oltremare si poteva fare ovunque con le medesime garanzie di ordine e sicurezza pubblica anzi a mio avviso questo reiterare in modo pervicace l'idea sulla mostra d'oltremare contro la volontà a questo punto dell'intera amministrazione comunale dell'intera maggioranza e non è questione di alcune persone che entrano e esprimono il dissenso noi le riteniamo un qualcosa che non aiuta detto questo io ho sempre detto dal primo momento che Luigi De Magistris e la sua amministrazione sono convintamente democratici a difesa della Costituzione per questo attacchiamo Salvini che fa apologia del fascismo siamo per il dissenso siamo perché si facciano manifestazioni non violente pacifiche, solari piene di cultura e di musica insomma io la penso esattamente come quegli artisti che hanno fatto la canzone gente do sud, terroni di tutto il mondo unitevi aggiungerei quindi il tema è esattamente questo però perché si è voluti pervicacemente prendersi un bene che è nella disponibilità anche in diretta dall'amministrazione perché di fatto questo è accaduto oggi noi non abbiamo più una disponibilità della mostra oltremai la mostra di eventi sui droni non si possono fare la gente che vuole andare alla mostra non può andare la gente che si vuole fare un giro a Viale Kennedy non lo può fare se questo è normale me lo dite voi Allora, terza e ultima non era polemico prima però è preciso a parte inverse se a Mantua a Luigi De Magistris esponente di Dema impedissero di fare di parlare o come come dire il sindaco di Mantua dicesse qui De Magistris non è gradito lei ci andrebbe a Mantua ma non abbiamo impedito Calenda ancora una volta non ci capiamo se io vado a Mantua in una libera piazza io ho il diritto ma non lo può dire può dire io non ti do il comune di Mantua ma non lo farà mai perché noi non ispiriamo la nostra politica al fascismo alla xenofobia e al razzismo noi amiamo Mantua noi amiamo l'Italia unita nelle diversità non diciamo Napoli colera non fittate le case ai napoletani scappate che arrivano i napoletani che puzzano che i giovani del sud fanno schifo un attimo solo che il sud è una zavorra del paese questo è Salvini Salvini che chiede scusa perché si avvicina la campagna elettorale vuole prendere qualche voto al sud quindi la lotta sarà dura sarà politicamente non violenta ma noi non ci facciamo prendere in giro sicuramente da Salvini quindi noi a Mantua possiamo andare se poi a Mantua come un'altra persona ritiene qualche amministrazione comunale di non darci la possibilità di entrare noi ce ne faremo una ragione andremo nelle piazze nelle strade con le mani pulite con il sorriso con la musica con la solidarietà con la fratellanza con l'accoglienza con l'amore non con l'idea di usare discriminazione nei confronti del sud le politiche di Salvini sono queste almeno non interessano le chiacchiere di Salvini quello che ha fatto Salvini in questi anni tutta la politica di Salvini è improntata contro il sud contro i sud contro il meridione contro i napoletani tutto per spostare verso l'egoismo e la concentrazione del potere in poche mani compreso affarismi corruttele e ruberie che hanno caratterizzato la storia della Lega non di tutti ma chiaramente da alcuni esponenti in questi anni a cominciare da Umberto Bossi per finire anche alle indagini che riguardano lo stesso presidente della regione Lombardia c'è una storia molto diversa Napoli ha le mani pulite e quindi respinge le politiche clienterarie xenofobe razziste antimeridionali di Matteo Salvini Matteo Salvini ha il diritto di fare la sua manifestazione per quanto riguarda da questo punto di vista il sindaco di Napoli nel senso che se lui vuole fare le sue manifestazioni se le faccia ma non le deve fare a nostro avviso in un luogo che è nella disponibilità del comune di Napoli lo farà secondo i canoni previsti dalla legge poi chiudo dicendo la libertà di espressione ricordo a tutti che in Italia esiste un reato che quando le tue dichiarazioni si improntano a ideologie fasciste o nazifasciste se si fa apologia del fascismo è reato non è libertà di espressione perché vedo che qualcuno si rifà all'articolo 21 della Costituzione l'articolo 21 della Costituzione che è sacrosanto che è la libera manifestazione del pensiero si va a combaciare con un altro articolo altrettanto importante della Costituzione che è considerato reato ed è vietata qualsiasi manifestazione qualsiasi espressione che si rifà alle ideologie di tipo fascista e se andiamo a vedere le dichiarazioni di Salvini soprattutto degli ultimi anni mi sembra che sia esattamente in questa direzione così come l'ho detto al prefetto di Napoli lo sto dicendo a voi buongiorno Silvio grazie a voi non credi che le tue legittime e giuste però io ho detto tutto signori se non c'è io non ripeto quindi se c'è una domanda da aggiunta se no mi fermo non credi che le tue legittime e giuste posizioni politiche a Salvini possono essere strumentalizzate da qualcuno nella manifestazione è molto chiara la mia posizione grazie è molto chiaro già detto tutto grazie